Sama, l'azienda che si occupa della gestione integrata dei rifiuti e materiali recuperabili, ha immaginato un nuovo futuro, un mondo dove è possibile far coesistere l'impresa e l'ambiente, l'uomo e la natura. Vieni su samagroup.it, conoscerci ti aiuterà a scoprire un mondo migliore. Sama, un mondo migliore. Costruisce il futuro. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.